Bene, buongiorno a tutti, bentrovati e benvenuti a questo smart event sul tema della mobilità. Vi leggo il titolo di questo seminario, Next Gen EU e mobilità, come i fondi europei attueranno la rivoluzione verde nel settore dei trasporti. Abbiamo un'oretta di tempo per discutere con un panel assolutamente autorevole e qualificato e ringrazio quindi tutti per la disponibilità e l'idea è di procedere in questo modo, se siete d'accordo. Abbiamo un'ora di tempo, come dicevo, direi di fare un primo giro di interventi su un quesito che vi pongo in via iniziale chiedendovi di stare entro i 4 minuti, 3 minuti e mezzo, 4 minuti e mezzo, per poi fare un secondo giro, magari riprendendo alcune delle vostre considerazioni e delle riflessioni che ci avete messo a disposizione in questo primo giro. Allora, diciamo primo intervento, vedo tra l'altro che è arrivato il ministro Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili. Ringrazio per la sua partecipazione, ho appena presentato l'oggetto di questa chiacchierata, della discussione che ci accingiamo a fare in questa oretta e come da accordi saremmo per coinvolgerla subito come primo intervento. L'oggetto appunto della discussione è quello della rivoluzione verde, in particolare sul sistema dei trasporti, diciamo l'incipit dell'evento appunto sottolinea quale quota e quanto è significativa la quota del PNRR destinata appunto alla mobilità, praticamente un quarto del totale del programma e quindi un investimento importante e significativo e come sappiamo strategico. Diciamo che nel ragionamento sulla rivoluzione verde è chiaro che ai trasporti che in qualche misura partono, forse un po' dopo, in qualche misura vengono poste delle sfide come sappiamo dal 2030 al 2050 molto significative. Intendo un po' dopo nel senso che se come parte ferroviaria e come parte TPL, diciamo il PNRR ha subito definito una serie di azioni significative importanti perché sono diciamo in qualche misura la parte ferroviaria, se non ricordo male Cuba 28 miliardi nel suo complesso. La componente diciamo del marittimo e del tuttostrada è diciamo in segue in qualche misura e il punto di partenza è tale per cui qualche dubbio, molti osservatori rispetto alla possibilità di raggiungere questi sfidanti obiettivi 2030 e 2050 se lo pongono. E quindi diciamo la prima domanda, in qualche misura altri settori, voi perché hanno misure distintive, sto pensando all'edilizia col super bonus, hanno anche un'iniziativa di policy distintiva che in qualche misura spinge nella direzione della transizione, i trasporti partono con una sfida che probabilmente è, mi scusate il gioco di parole, più sfidante rispetto ad altri, anche per ragioni devo dire esogene nel senso che alcune incertezze tecnologiche, sto pensando elettrico ma soprattutto idrogeno, sono tali per cui la domanda ha incertezza anche nel posizionarsi su quale traiettore imboccare. Quindi diciamo la prima domanda del Ministro è questo, rispetto alle vostre iniziative, rispetto all'ipotesi di lavoro, vede questi obiettivi realistici e raggiungibili o no? Questa è la domanda, la prima domanda per il Ministro. Prego. Ministro non la sento io, ecco. Ecco, adesso dovremmo esserci. Sentiamo molto bene, prego Ministro. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie per questo invito, grazie per questa riflessione con persone che sono molto competenti sull'argomento e che quindi certamente animeranno un bel dibattito. Lei ha mai visto una classifica del campionato basata sui risultati dei primi tempi delle partite? Normalmente è una classifica radicalmente diversa da quella finale. Lo dico perché questa enfasi così forte sul PNRR, che è comprensibile da tanti punti di vista, però è come se volessimo fare la classifica e discutessimo soltanto su partite di 45 minuti. E lo dico a maggior ragion veduta, magari questo dibattito potrebbe essere fatto tra qualche settimana, alla vigilia della presentazione della legge di bilancio, dove sappiamo ci sono i fondi pluriennali sul bilancio dello Stato, così come siamo alle soglie della definizione della destinazione dei 15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione e degli 80 miliardi dei fondi ordinari europei 2021-2027. E poi ci sono i fondi ordinari nel bilancio del Ministero. Lo dico perché faccio un'ipotesi non fantascientifica. Pensare che noi possiamo sostituire gli autobus, per fare un esempio comprensibile a tutti, inquinanti, con strumenti che hanno solo a che fare col PNRR, è chiaro che è realistico. Saremmo stati stupidi a dire, ah noi adesso col PNRR rimpiazziamo tutti gli autobus inquinanti. Ma non è un caso che non l'abbiamo detto. La velocità di transizione, faccio l'esempio degli autobus, dipende naturalmente da quanti fondi PNRR, fondo complementare, FSC, eccetera, eccetera, verranno allocati a questo scopo. Ed è per questo che io da qualche mese nel dibattito pubblico insisto nel dire che stiamo facendo uno sforzo di definizione, in particolare con le regioni, ma non solo, degli orientamenti dei 15 miliardi FSC, degli 80 miliardi, in modo sinergico, complementare, rafforzativo del PNRR. Perché è una cosa che col PNRR mettiamo una certa quantità di miliardi appunto sugli autobus, non finanziando più autobus diesel. Un'altra cosa è che la stessa cosa fanno i comuni, la stessa cosa fanno le regioni, la stessa cosa fanno gli altri. Quindi alla sua domanda, ma tutto questo è sufficiente per raggiungere gli obiettivi di Fit for 55, cioè la riduzione del 55% entro il 2030 e poi la decarbonizzazione? La risposta molto onesta che vi devo dire è non lo so ancora. E questo ha a che fare con il modo complesso con cui è organizzata la governance del sistema dei trasporti e non solo dei trasporti. Allora, sembra quasi che appunto la partita si giochi solo sulla progettazione e programmazione del PNRR, mentre c'è la seconda parte della partita da giocare e si sta giocando in queste settimane. E quindi però bisogna prendere, diciamo così, di petto sempre il ministro? No, bisogna prendere di petto i singoli presidenti di regione, penso a chi oggi rappresenta qui la società civile. E quindi bisogna chiedere ai presidenti di ciascuna regione, ma voi cosa contate di farci con quei 15 miliardi, in particolare le regioni a mezzogiorno? Questa è la partita che oggi si sta giocando e se non la giochiamo in modo sinergico, la risposta alla sua domanda sarà, beh, sarà molto più complicato farlo. Qual è dunque il vantaggio del PNRR? Io credo di aver definito le coordinate lungo le quali ci muoveremo nel primo tempo, 2021-26, e nel secondo tempo, 2027-2030, perché con queste coordinate sarà molto difficile per vari soggetti fare investimenti in totale contraddizione con il PNRR e questo è il vincolo. Peraltro, ricordo sempre che anche gli 80 miliardi dei fondi ordinari europei vanno spesi nella logica del do not significant harm, non impattare significativamente sull'ambiente. E questa non credo che sia ancora entrata nell'immaginario collettivo, per questo lo ripeto continuamente. Perché se un sindaco o un presidente di regione pensa con quei soldi di farci un'autostrada super inquinante, supponiamo, o di farci un'operazione super inquinante, super distruttiva dell'ambiente, l'Europa gli dirà, mi dispiace, questo progetto non è elegibile, così come l'ha detto nel PNRR. Allora, e arrivo alla conclusione del mio ragionamento provando a rispondere. Le direttrici principali sono quattro, chiaramente. Primo, cura del ferro, shift modale non solo delle persone, ma anche delle merci. Questo ha implicazioni molto complesse, sui sistemi non tanto di alta velocità ferroviaria, ma sui sistemi del trasporto dei pendolari regionale e così via. E al di là dell'elettrificazione, il passaggio sembra molto tecnico, ma è fondamentale perché senza di quello non si va da nessuna parte, è l'accelerazione del programma RTMS, cioè l'aggiornamento tecnologico delle reti ferroviarie, ma questo vale anche per gli aeroporti, che a parità di infrastruttura di rete consentono di aumentare il traffico. E quello è un buco, scusate, è un collo di bottiglia altrimenti. Seconda direttrice, chiarissima, il rinnovo in senso ecologico delle flotte del trasporto pubblico locale, non solo degli autobus, ma anche dei treni regionali e così via, su cui il PNRR mette molti fondi, ma che vanno in qualche modo raddoppiati, rafforzati nel senso che vi ho detto io. Ma basta cambiare gli autobus? No, perché se il trasporto pubblico locale serve soltanto una quota minoritaria di cittadini e di traffico, questo non risolverà il problema. Dunque dobbiamo fare la riforma del trasporto pubblico locale, cui ci confronteremo in Parlamento prossimamente, per aumentare quella quota. Quindi trasporto pubblico locale in senso lato. Terzo aspetto, il cambiamento climatico, la crisi climatica richiede interventi di mitigazione, ma anche di adattamento. Perché altrimenti le infrastrutture che abbiamo oggi rischiano di andare non solo fuori servizio perché sono vecchie, ma di non reggere alla crisi climatica. Dunque questo è un filone completamente nuovo su cui tutti dobbiamo investire, come abbiamo provato a fare adesso sui porti, proprio per non solo il greening, ma anche la difesa dalla crisi climatica. Il quarto e ultimo elemento ha a che fare chiaramente con la mobilità su gomma, dove la trasformazione in senso ecologico non ha ancora per ora un chiaro vincitore. Penso alle automobili, dove l'elettrico chiaramente è the only game in town, direbbero gli inglesi, nel futuro. Ma per ciò che riguarda invece il trasporto su merci, beh, la trasformazione dei nostri auto, dei nostri, chiedo scusa, TIR, in senso ecologico, passa per idrogeno, batterie elettriche, un misto, l'ibrido, non so che altra soluzione tecnologica. Ecco, l'incertezza su questo aspetto e con questo concludo, ci aiuta a capire che noi dobbiamo non solo investire in ricerca, investire in filiere nazionali, ma anche essere rapidi nel cambiare eventualmente la programmazione. Ed è qui dove l'iniziativa che stiamo intraprendendo per fare il nuovo piano generale dei trasporti, della logistica e della mobilità sostenibile, è concepito come un piano processo, cioè non qualcosa che si scrive una volta ogni dieci anni, ma è qualcosa che evolve continuamente. Mi fermo qui, non so se ho risposto alla sua domanda. Ha perfettamente risposto, anzi grazie per avermi e averci riportato sul punto e definito che cosa può fare e che cosa non può fare il PNRR e che cosa deve fare il sistema della governance e soprattutto regioni e comuni allineandosi al PNRR per portare a compimento questa transizione che è tutt'altro che scritta. Passo alla Eleonora e lei, deputata europea, il ministro ha accennato il tema dell'incertezza sulle tecnologie e del grande sviluppo che sta montando sulle tecnologie. La ricerca è un tema chiave. La programmazione europea, nuova programmazione europea, come diceva il ministro, 2021-2027 offre grandissime opportunità al sistema Italia, anche da questo punto di vista, i programmi di finanziamento ci danno un'occasione per creare le condizioni, strutturare, cementare le competenze e trovare soluzioni e sperimentarle, soluzioni che possono dare corpo a questo percorso. La domanda che faccio a Eleonora Evi è questa, dal suo osservatorio rispetto appunto a questi imponenti programmi che la programmazione europea mette a disposizione, queste importanti risorse che la programmazione mette a disposizione, il sistema Italia rispetto alle sue specificità cosa ritiene debba cavalcare e quali sono le opportunità su cui insistere rispetto appunto alla programmazione 2021-2027. Prego. Sì, grazie, grazie mille. Allora, sicuramente io ritengo che lo sforzo che il nostro paese dovrebbe fare in questo momento è evidentemente un'accelerazione sulla mobilità elettrica e torno quindi un po' ai dati che dicevamo, di cui stavamo parlando prima, perché se è vero che sicuramente diciamo il capitolo mobilità, soprattutto nell'abito del PNRR, ma giustamente il ministro ricordava tutti gli altri fondi che dovranno lavorare sinergicamente per la trasformazione dei settori di trasporti a livello nazionale, che ricordo a livello europeo è quello che continua a emettere di più, quindi non dobbiamo dimenticare che gli sforzi da fare in questo campo sono imponenti, ma anche perché sono urgenti e proprio perché il settore del trasporto è quel settore che continua a contribuire massicciamente ai gas serra, in particolare quello che non ha visto delle riduzioni nel corso del tempo e questo è ovviamente un primo elemento di preoccupazione e io ritengo che, quindi tornando diciamo a cosa fare e cosa fare prioritariamente, io ritengo che gli sforzi da mettere, da dispiegare sul fronte della mobilità elettrica debbano essere maggiori, perché prendo un dato, l'infrastruttura di ricarica, nel PNRR abbiamo dedicato 750 milioni, neanche 740 milioni all'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, che sia una cifra tutto sommato contenuta, soprattutto se paragonata agli sforzi che stanno facendo altri paesi europei, penso la Germania che pare abbia messo una cifra molto più importante, 5 miliardi sul capitolo infrastruttura di ricarica e loro sono già più avanti di noi, quindi insomma questo diciamo dà un po' l'idea dello sforzo e forse della ripartizione all'interno del settore mobilità che poteva essere fatto e andrebbe fatto appunto in una maniera per premiare maggiormente la diffusione di veicoli elettrici, quindi appunto un'infrastruttura di ricarica più puntuale, più da dispiegare sul territorio italiano. E poi il tema del, toccato prima, il tema del trasporto ferroviario, beh anche qui io vedo che c'è una sorta di sproporzione, soprattutto nel PNRR, abbiamo messo 24 miliardi di euro sul trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza, 10 miliardi sull'alta velocità, io non ho alcuna preclusione ideologica sull'alta velocità, ritengo però che alcuni progetti di alta velocità come la linea ferroviaria Torino-Lione, che anche la Corte dei Conti ci ha detto non ci aiuterà a ridurre le emissioni perché il primo grammo di CO2 verrà tolto dall'atmosfera dopo il 2050, perché non abbiamo fatto una vera e propria analisi del ciclo di vita dell'intera opera in termini appunto di impatto climatico di emissioni. Ecco che insomma abbiamo e stiamo ancora utilizzando molte, moltissime risorse su progetti infrastrutturali di grande impatto e che non ci aiutano dal mio punto di vista ad accelerare appunto la trasformazione dei trasporti in chiave ecologica e paradossalmente abbiamo messo molto poco sul trasporto ferroviario locale che è quello, in generale la mobilità locale che è quella che oggi produce la maggior parte di emissioni perché il 70% della CO2 proviene proprio dal trasporto locale, quindi da spostamenti che sono di sotto dei 50 km di media effettuati appunto dal cittadino, dal cittadino comune che si deve spostare per andare a lavoro, per andare a scuola, per andare a fare le proprie attività. Ecco, su questo serviva dal mio punto di vista un impegno maggiore che non abbiamo visto, che io credo ancora oggi non emerge. Peraltro in alcune aree del paese, penso in particolare alla Pianura Padana che soffre da ormai tempo in memore di una situazione cronica di inquinamento atmosferico e anche con pendenti diverse procedure di infrazione, in particolare ovviamente sulle polveri sottili, PM10, PM2,5 e anche gli osi di azoto. Quindi insomma l'importanza di intervenire su un trasporto locale, regionale, via dal mio punto di vista prioritaria rispetto agli altri settori. Ritengo che però sia sicuramente, come dire, dall'Unione Europea e qui sposto il focus anche da diciamo quello che saranno da adesso in avanti le proposte legislative che verranno discusse. Penso al pacchetto Fit for 55 che è stato appena presentato a luglio e che contiene sicuramente delle misure importanti e tra queste nella revisione della direttiva della DAFI o meglio non più DAFI sulla infrastruttura di ricarica per i combustibili alternativi, bene che ci siano finalmente obiettivi vincolanti a livello nazionale perché questo è stato anche spesso l'altro ostacolo. Troppo spesso obiettivi a livello europeo vincolanti e non degli obiettivi che si traducono in impegni vincolanti da parte degli stati membri. Ecco su questo chiaramente lo salutiamo con favore. Una cosa che però secondo me dall'Europa non sta avvenendo nel modo diciamo alla urgenza e al passo necessario è per esempio l'impegno a, o meglio l'obiettivo di vietare la vendita di veicoli a combustione nel 2035. Perché il 2035 dobbiamo farlo prima? Noi come Greens, come Verdi al Parlamento Europeo stiamo chiedendo che questo impegno e questo obiettivo venga anticipato al 2030 per dare un segnale forte al settore dell'automotive e favorire anche quel mercato di veicoli usati, elettrici che potrà finalmente anche essere come dire più abbordabile anche per le famiglie eh di più basso reddito e quindi per una una più grande eh espedita di fusione dell'auto elettrica. Eh ecco queste alcune delle considerazioni eh sicuramente ehm il piano italiano eh tornando quindi a a livello nazionale eh non dico che non faccia e non metta in campo eh delle misure come dire nella direzione giusta. Però io credo che serviva molto più coraggio in particolare sulla mobilità elettrica e sul trasporto pubblico locale. Penso l'ultimo esempio per concludere sulle piste ciclabili perché il grande tema qui anche è la trasformazione anche in chiave proprio culturale di come eh ci spostiamo oggi e sulla mobilità dolce, sulla mobilità ehm appunto sulla mobilità eh ciclabile eh c'erano anche nel piano precedente impegni maggiori penso a 1200 chilometri di piste ciclabili da realizzare oggi nel piano PNRR siamo fermi alle 600. Mi auguro come diceva appunto il ministro che ci saranno anche altri fondi a cui attingere per favorire di fatto poi mh non diciamo un libro dei sogni ma quello che è stato già deciso anche a livello locale con i PUMS che sono stati appunto approvati e sui quali insomma c'è sicuramente già tracciata una strada che deve vedere appunto il trasporto pubblico e la mobilità dolce sicuramente un ruolo da protagonista. Mi scusi posso fare una brevissima chiosa? Non so se è ammesso dal dibattito. Diciamo siamo flessibili ministro soprattutto. E che eh forse eh dimentichiamo che il PNRR va realizzato entro il duemilaventise. Questo ha delle implicazioni eh come diciamo noi economisti time dependency. Cioè le infrastrutture ferroviarie della Val Padana per citare l'esempio che faceva con le ore Evi sono sature. Quindi o ci mettiamo a costruire altre ferrovie con distruzione di ambiente eccetera oppure prima dobbiamo fare gli investimenti sul sistema RTMS perché altrimenti non possiamo aumentare il i tragitti e il il traffico. Punto. Possiamo noi fare questo entro il duemilaventise? Esattamente i fondi per RTMS. Dopodiché ci sarà la possibilità a questo punto di investire successivamente per aumentare il numero di convogli perché prima se anche li comprassimo non potrebbero viaggiare e la stessa cosa vale per le piste ciclabili per cui i 600 milioni che sono stati immaginati sono necessari a finanziare interventi realizzabili entro il duemilaventisei perché purtroppo al di là del piano di cui eh giustamente parlava l'onorevole Evi non ci sono le progettazioni quindi lo dico semplicemente per questo il primo e il secondo tempo cioè una serie di scelte sono legate al fatto che le cose vanno fatte entro il duemilaventisei e bisogna dunque impostare perché nel secondo tempo duemilaventisei duemilatrenta una serie di vincoli di colle di bottiglia di mancate progettazioni eccetera possano essere fatte su cui investire fondi ulteriori. Scusate la precisazione. Eh grazie grazie ministro ehm a questo punto eh eh diciamo oltre a corrermi l'obbligo di lanciare il sondaggio avete letto che c'è un sondaggio eh online eh che domanda eh eh quello che vedete diciamo era un po' l'incipit contenuto nell'incipit del del convegno per una mobilità sostenibile il nodo è solo nelle risorse economiche osservano anche interventi normativi sono sufficienti eh le eh sono sufficienti le giuste risorse sono necessari anche interventi normativi non so. Quindi ringrazio eh l'onorevole Evi che credo anzi ci ha già eh forse lasciato che tra l'altro è come abbiamo intuito portavoce nazionale dei Verdi Italiani e io a questo punto anche eh per ragioni di tempo passerei subito a Enza Bruno Bossio che credo debba anche lei eh a breve ehm eh rispondere credo abbia una un impegno anche lei stringente è difficile per tutti tenere gli occhi su questa su questa discussione quando la tentazione è quella di guardare i sondaggi delle quindici ma detto questo provando a tornare a noi eh le sottopongo la domanda che diciamo in parte avevo in mente ha citato la 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 Evi anche il tema delle diciamo del eh il come è è strutturata il nostro paese che è fatto anche di eh di di borghi è fatto di aree disperse è fatto di zone periferiche eh cosa che evidentemente per la logistica e per i trasporti eh rappresenta una doppia sfida perché lì non c'è la massa critica però c'è un'esigenza di eh trasporto e di mobilità eh che eh spesso è anche più difficile da raggiungere non può essere raggiunta con gli strumenti eh classici e la risposta non è l'infrastruttura sono servizi flessibili intelligenti eh e diversi diversi ehm in qualche misura che richiedono comunque anche essi investimenti importanti e devo dire che se il gap eh diciamo eh infrastrutturale del sud Europa rispetto al nord Europa è eh facilmente certificabile forse questa è la mia impressione il gap culturale soprattutto nelle nuove generazioni anche nel sud Europa fa ben sperare rispetto appunto al fatto che l'impulso che viene dalle nuove generazioni in particolare e dalla loro capacità di convincere anche quelle che non sono più nuove generazioni possa aiutare questa transizione strutturale che ha aiutato in via non esclusiva come abbiamo detto dal PNRR ma che diciamo il PNRR contribuisce a implementare ed avviare sostenere indirizzandola nella giusta direzione. Quindi le chiedevo diciamo la risposta rispetto al mondo delle periferie che appunto non sono solo le periferie delle città ma sono i piccoli borghi, gli appennini, le aree industriali, artigiane. È una risposta eh sufficiente o dobbiamo ancora attressarci e fare di più? Prego. Bene, grazie per l'invito e devo dire che condivido molto l'intervento del ministro Giovannini e non lo dico diciamo eh di parte ma perché sono e sono alla seconda legislatura sono in commissione trasporti già nel ero già nella scorsa legislatura e finalmente con questo PNRR nel senso naturalmente in cui l'ha presentato il ministro Giovannini eh il PNRR è un pezzo del finanziamento e di un progetto che c'è in questo momento sullo sviluppo dell'Italia. Però il PNRR purtroppo il motivo per cui diciamo abbiamo questo PNRR è la pandemia. Ah sta affrontando quei nodi che in questi anni non si sono voluti affrontare. Quelli del divario territoriale, del divario di genere e del divario diciamo generazionale. E poi quello della transizione ecologica e dell'innovazione digitale. Dentro questo quadro che poi è quello di Next Generation EU ci sta il PNRR, ci sta i fondi complementari, ci stanno l'agenzia per la coesione, ci stanno i fondi europei, quelli diciamo regionali e nazionali. Bene però il l'impostazione dal punto di vista strategico è finalmente definita e quindi anche per esempio quando parliamo di alta velocità da Salerno a Reggio Calabria non parliamo di qualcosa che invade il territorio, ma parliamo di qualcosa che finalmente unisce l'Italia, che non si ferma sostanzialmente a Salerno. E praticamente questa impostazione non è presente soltanto nel PNRR, tant'è che per l'alta velocità c'è soltanto un miliardo e tre nel PNRR. Il resto dei soldi dell'alta velocità sono nel fondo complementare, 11 miliardo e tre complessivi che diciamo sono sostanzialmente fondi di bilancio. E qui c'è una seconda questione fondamentale. In questi anni gli investimenti in infrastrutture, quando andavi a leggere il contratto RFI-MIT, che adesso sarà RFI-MIMS, era praticamente all'80% investimenti al nord e meno del 20% investimenti al sud. Nei prossimi dieci anni sarà rovesciato, quindi vuol dire che c'è un'impostazione che finalmente si pone il problema di unificare l'Italia. Dopodiché c'è la domanda, ma l'alta velocità è l'intervento giusto rispetto anche alle periferie. Premesso che il sud è rimasta periferia anche perché non si sono fatte le infrastrutture. Io all'inizio della scorsa legislatura ho avuto uno scontro con l'amministratore delegato di Ferrovie che diceva che al sud non si poteva portare l'alta velocità perché non c'era la domanda. Oggi il PNRR ci impone di recuperare i divari territoriali, naturalmente non solo con l'alta velocità. Quindi il problema culturale delle volte non è solo quello del mezzogiorno, ma forse anche quello del nord in cui si è pensato che bisognava intensificare non solo l'alta velocità, ma tutta la rete trasversale perché lì c'erano le aziende, c'era la domanda, c'era una richiesta di mobilità maggiore. Noi oggi certo che dobbiamo intervenire anche sulla parte periferica e trasversale e in effetti si sta facendo perché per esempio si stanno facendo investimenti, sono previsti investimenti per esempio per le stazioni del sud, sono previsti investimenti per alcune ferrovie con sperimentazione di treni all'idrogeno, sono previsti tutti una serie di investimenti sull'idrico oppure sulla rigenerazione urbana e sui borghi. Ce la faremo a percorrere questa strada e il vero problema è la governance, rispetto a quella domanda che voi avete messo in chat, il vero problema è la governance, cioè la capacità dei ministeri, delle regioni, ma anche della struttura burocratica nazionale e regionale di andare in questa direzione. Faccio un esempio a profisto della presenza del Ministro per sollievargli questa questione. Noi abbiamo fatto un emendamento che finalmente prevede il raccordo tra il porto di Gioia Tauro, la stazione di San Ferdinando, Rosarno, poi verso l'alta velocità. Ancora la regione Calabria non ha passato i terreni ad RFI per fare una cosa che abbiamo deciso un anno fa. Un anno fa il gateway ferroviario c'è, ma non si riesce a far andare verso San Ferdinando e verso Rosarno perché a livello regionale non c'è stato ancora questo passaggio proprio di competenza. Ho fatto un esempio per dire quanto ha ragione il Ministro sul fatto che non è semplicemente delle volte una responsabilità governativa o parlamentare, ma c'è bisogno di un raccordo che garantisca sostanzialmente questa governance. E un'ultima cosa, è fondamentale l'innovazione. Cioè quando per esempio si discuteva sulla percentuale dei soldi, dei fonti per il digitale. Io dico che il digitale è veramente qualcosa di trasversale che va ben oltre il 30%. Questo programma RTMS, DFS, ma ci stiamo dietro da dieci anni. Finalmente oggi forse lo stiamo facendo partire. Quindi c'è finalmente una consapevolezza, io la vedo un po' più complicata sul tema dell'energia, ma di conseguenza anche come poi l'energia non fossile si riesce a trasferire sulla mobilità dolce. Però io credo che su questo veramente anche a causa della pandemia abbiamo fatto dei passi straordinari. E sono d'accordo con chi spesso cita Papa Francesco quando dice che la cosa più grave dopo la pandemia è non capire che la pandemia ci costringe a vedere il mondo in maniera diversa. Certo non ideologica, perché anche il discorso del modello di sviluppo green, di innovazione, deve essere diciamo compatibile con lo sviluppo complessivo del territorio. E mi sembra che l'impostazione che ha dato il ministro Giovannini sia quella giusta. Grazie. Allora grazie a lei onorevole. Io a questo punto se siete d'accordo completerei il giro magari concedendo qualche minuto in più ai prossimi oratori, visto che abbiamo ancora 20 minuti e poi fare chiudere al ministro. Così raccogliamo un po' tutti gli elementi e facciamo chiudere il ministro con una domanda, ma lasciandolo libero di chiudere e raccogliendo gli stimoli e le sollicitazioni che ritiene. Ci sono diverse domande che vengono dalla chat sul tema della micromobilità e diciamo non a caso in programma avevamo a questo punto Raimondo Orsini che è il direttore della Fondazione per lo sviluppo sostenibile a cui appunto rivolgo la domanda sulla nuova mobilità. Nel senso che dentro questo ampio ampia discussione sulla transizione dei trasporti, un ruolo importante che diciamo non è più così nuovo, nel senso che è da diversi anni che vediamo in modo tangibile una crescita consistente nelle nostre città della nuova mobilità, quindi mobilità sostenibile in particolare condivisa e diciamo la domanda che faccio a Raimondo è questo, nel senso che mi piace sottolineare che questa nuova mobilità nelle città ha rappresentato e può rappresentare questa grande risorsa di complemento a altri modi in primis al TPL. Non a caso è proprio dove troviamo delle fermate ferrovia di TPL, trasporto ferroviario o metropolitano o tuttogomma che la presenza in quegli luoghi di una mobilità sia mobilità condivisa sia micromobilità, non solo micro, anche car sharing, rappresenta quella possibilità di ultimo miglio in grado di permettere a un utente di avere una vera opzione di modal shift e quindi abbandonare per il trasferimento in città l'auto privata e sappiamo quanto tempo perdiamo in code nel traffico piuttosto alla ricerca del parcheggio. Quindi chiedo a Raimondo, diciamo in questa opportunità che ha la mobilità di essere all'interno delle città e rispetto anche ai PUMS una risorsa da cogliere anche per la pianificazione di un ridisegno della città alla luce dell'ormai sua plurinale esperienza, quanto è avanzata questa esperienza e quanto le città sono disposte a raccogliere questa occasione della nuova mobilità ricependola nella loro pianificazione per dare un'opzione alternativa appunto di mobilità in città. Grazie, grazie Andrea, buon pomeriggio Ministro, buon pomeriggio a tutti, è un piacere partecipare al dibattito. Innanzitutto con l'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility che è un po' la novità degli ultimi anni che teniamo insieme proprio al Ministero delle Infrastrutture Mobilità Sostenibili e al Ministero della Transizione Ecologica, noi analizziamo la crescita di questo nuovo fenomeno e soprattutto la crescita sostenibile di questo nuovo fenomeno. Sul discorso della micromobilità propongo un convegno a parte da fare insieme magari sul tema dei monopattimi e da micromobilità che come sapete è un tema scottante da tanti punti di vista ma anche dal punto di vista della conoscenza. La cosa fondamentale su cui concentrarsi è quella per cui il nostro paese, come sapete, è il paese che è il tasso di motorizzazione privata più alto d'Europa. Parliamo di 650 veicoli ogni mille abitanti, compresi i bebè e i novantenni. Ci sono delle città come Roma, ad esempio, che viaggiano verso i 700 veicoli ogni mille abitanti che rendono quindi necessario affrontare uno dei due pilastri fondamentali perché è vero, come diceva l'onorevole Evi, che l'elettrificazione è determinante anche per le emissioni, ma è anche vero che la riduzione del tasso di motorizzazione privata grazie alla possibilità di utilizzare nuovi servizi, perché non si tratta di deprimere ma si tratta di offrire nuova mobilità, è fondamentale. Quindi nelle nostre città la sharing mobility intesa come mobilità condivisa in senso largo sta crescendo moltissimo. L'Italia è leader in Europa, le città italiane, abbiamo fatto un'indagine di benchmarking, stanno crescendo tantissimo anche a livello europeo. E su questo io vorrei prendere proprio spunto da quello che ha detto il Ministro sulla riforma del trasporto pubblico locale, quando diceva dobbiamo ragionare sulla riforma del trasporto pubblico locale in senso lato. In questo senso lato è fondamentale proporre agli enti locali di considerare, e quindi anche poi a livello normativo nazionale, di considerare il trasporto pubblico locale come quello che noi abbiamo chiamato il ventaglio della mobilità condivisa, cioè non solo il trasporto pubblico locale in senso tradizionale, ma tutto ciò che consente al cittadino di poter rinunciare agevolmente all'automobile privata con un solo conducente a porto, quindi dal taxi al noleggio col conducente, ai bus, alle metro, al car sharing, al bike sharing, cioè arrovesciare completamente il paradigma nelle città italiane, per cui io utilizzo il mezzo che è più conveniente a seconda della necessità che ho in quel momento. Questo porta degli effetti anche ambientali e sociali molto importanti, perché poi la riduzione delle emissioni si fa se si riduce il traffico veicolare privato. Noi come fondazione abbiamo analizzato qualche anno fa che l'80% delle emissioni di CO2 del settore trasporti passeggeri vengono su distanze tra i sette e i dieci chilometri, cioè sostanzialmente per l'utilizzo dell'automobile in città. Allora, ora noi siamo, grazie anche alla tecnologia, nella possibilità di attuare questa piccola rivoluzione. Allora, in questo senso, le possibilità sono innanzitutto fornire agli enti locali, in questa riforma che diceva il ministro Giovannini, e abbiamo anche parlato sulla legge francese, che potremmo prendere un po' ispirazione, che è quella, loro l'hanno chiamata la legge organica delle mobilità, delle mobilità, perché proprio garantisce tutte le tipologie di mobilità, garantire al cittadino la possibilità di utilizzare dei buoni mobilità, se lascia l'auto privata, per utilizzare la mobilità, la cosiddetta sharing mobility, primo. Secondo, già nel PNRR, per parlare dei prossimi cinque anni, ci sono dei finanziamenti al mass, quello che si chiama mobility as a service, cioè grazie alle tecnologie, oggi il cittadino può scegliere, può utilizzare la mobilità come un servizio, per cui invece del veicolo, io ho lo smartphone, e con lo smartphone posso decidere agevolmente e pagare direttamente il tipo di servizio di mobilità che voglio utilizzare. Terzo, e qui vengo al tuo punto, che è anche il più interessante dal punto di vista proprio, è stimolante dal punto di vista futuro, noi siamo abituati a pensare alle nostre città, e quindi la mobilità delle nostre città, come una mobilità dei veicoli privati, tant'è vero che sapete bene che l'assessore, fino a poco tempo fa si chiamava l'assessore al traffico, cioè il concetto è, le strade servono per muovere i veicoli privati, addirittura quando questi veicoli privati vedono degli UFO che arrivano, biciclette, scooter, monopattini, vengono visti culturalmente come degli invasori. Ecco, se noi ragioniamo nella nuova forma di rigenerazione urbana, cioè quella della pianificazione delle città in ottica multimodale, le strade, gli spazi possono servire a varie funzioni e non solo ai veicoli privati, e quindi si possono ridisegnare, magari con una piccola cuola degli investimenti, ma provare a ridisegnare gli spazi delle città per utilizzare ad esempio i parcheggi dello sharing, per utilizzare ad esempio i luoghi di aggregazione che permettono le piste ciclabili di diventare fruibili, eccetera, eccetera. Questo chiaramente non è una cosa che può essere fatta in un anno, questo va fatto in almeno due lustri, ma possiamo cominciare a farla adesso. Quindi la mia proposta, ma so che su questo il Ministro Giovannini è d'accordo, ma dobbiamo lavorarci con gli enti locali anche e con i parlamentari, è quello di concepire una nuova idea di trasporto pubblico locale, dove il pubblico non sta per azienda municipalizzata e il servizio pubblico, ma sta per mobilità condivisa. Le imprese ci sono, le imprese che forniscono questi servizi sono pronte, ci sono in molte città, stanno già sviluppando questi servizi, il gap con il sud è da colmare anche in questo caso, perché in molti servizi dello sharing il centro nord va benissimo e il sud non va ancora bene, gli amministratori lo vogliono fare. È il momento giusto per farlo ed è un tema che costa poco rispetto alle grandi infrastrutture, ma permette delle evoluzioni veloci. Grazie, grazie. Posso dire una cosa al volo? Sì, al volo, prego. Ho ascoltato mentre stavo festeggiando la vittoria al ballottaggio di Cosenza, scusate un attimo, vero distratto. No, volevo diciamo rassicurare che sul tema della mobilità dolce come Commissione Trasporti e sul sharing ci siamo tantissimo, tant'è che abbiamo presentato degli emendamenti che vanno nella direzione, pur nella sicurezza, del rafforzamento di questi mezzi alternativi anche all'automobile. Chiuso, grazie. Grazie a lei. Allora, chiuderei con, a questo punto, prima di lasciare la parola al Ministro, diciamo, per chiudere un po' raccogliere gli spunti che ritiene e chiederei a Pierpaolo Settembri, che è Commissione Europea, Capo Unità, Coordinamento e Pianificazione della DigiMove, di intervenire. In particolare vorrei sottopogli un punto che è appunto proprio della policy europea dei trasporti. Diciamo che c'è un filone che è tradizionale, è nelle corde e nella tradizione della politica europea che tende, diciamo, attraverso la strutturazione e l'integrazione dei vari corridoi di trasporto all'interno della rete Tenti di costruire un mercato unico del trasporto. Questa è una filone che prosegue e oggetto ovviamente anche in questa prossima programmazione di investimenti importanti. La cosa in realtà che però gli volevo chiedere è su tutto questo scenario futuro della nuova mobilità, intesa soprattutto come nella logica ovviamente che stiamo trattando di transizione energetica del settore trasporti e quindi nuova mobilità elettrica in primis, ma anche che utilizza soluzioni tecnologiche, digitali che permettono la connessione e permettono, diciamo, la guida autonoma. Quindi lo scenario di soluzioni che permettono a nuove forme di mobilità di essere appunto elettriche, connesse, autonome, quindi lo scenario dei droni piuttosto che per il trasporto merci, piuttosto che passeggeri e quant'altro. Diciamo ambito che ha enormi implicazioni dal punto di vista regolativo e dal punto di vista della sicurezza. Quindi chiedevo a settembre diciamo uno spunto rispetto in particolare a questo tema dal suo osservatorio e rispetto alla roadmap europea su questo tema che mi pare è un tema saliente di grande impatto in temi di transizione verde dei trasporti. Prego, settembre. Grazie, la ringrazio molto per l'intervento e ringrazio gli altri oratori per questo dibattito molto interessante. So di essere l'ultimo oratore prima dell'intervento del ministro, quindi sarò molto breve. Vorrei sottolineare quattro punti. Il primo è quello dell'innovazione. Noi stiamo vivendo una fase del trasporto in cui l'innovazione la sta facendo da padrone. Non è sempre stato così in questo settore. Invece stiamo vedendo un fermento unico. Lei ha citato i droni, potrei citare l'hyperloop che forse sarà un nuovo modo di trasporto dopo un secolo dall'ultimo. Parliamo delle nuove tecnologie per i sistemi di propulsione, nuovi modelli di consumo, ne parlava il dottor Orsini e anche nuovi modelli di business con le piattaforme che stanno entrando in questo mercato con effetti ovviamente sempre molto discutibili e comunque è una rivoluzione in corso e questa sicuramente è una grande opportunità. La grande opportunità che risolve una criticità storica del trasporto è che ci sono le risorse. Parliamo del piano nazionale ma parliamo anche di risorse che esistono per la ricerca a livello europeo con Orizzonte Europa. Esiste il meccanismo per collegare l'Europa con i suoi 30 miliardi nell'attuale quadro finanziario per le grandi per esempio reti infrastrutturali europee. Esiste secondo me un terzo fattore che è quello di una certa sensibilità del pubblico ad accogliere delle innovazioni. Noi abbiamo fatto un sondaggio l'anno scorso prima di approvare la nostra strategia sulla mobilità europea. È il 495 del 2020, se qualcuno volesse poi andarselo a cercare, da cui abbiamo tratto secondo me un'informazione importante, cioè che i cittadini ovviamente sono molto sensibili al costo del trasporto, cioè sono molto resti a pagare di più per avere un trasporto più sostenibile. Allo stesso tempo sono molto propensi ad adattare il loro comportamento se questo conduce a un migliore impatto ambientale. Per esempio abbiamo chiesto se loro fossero disposti ad attendere qualche giorno in più una consegna di un pacchetto oppure di andarlo a ritirare in un punto di raccolta vicino a casa loro. La risposta è stata sì, mentre alla domanda se sono disposti a pagare anche un 5-10% in più per un trasporto più sostenibile, la risposta è stata prevalentemente negativa. Quindi abbiamo un'opportunità di far leva su una predisposizione comportamentale che può avere un impatto. Infatti nella nostra strategia del dicembre scorso non parliamo soltanto di incentivi economici per punire chi inquina e premiare chi non inquina. Abbiamo parlato anche di una maggiore informazione per indurre i consumatori a fare delle scelte consapevoli. Quando oggi noi compriamo un bene online riceviamo le opzioni di consegna secondo la velocità e il costo, ma non necessariamente secondo le emissioni che quella consegna comporta. Quindi stiamo lavorando, ed è una delle azioni della strategia dello scorso anno, per far sì che queste informazioni siano disponibili, ma anche per scegliere degli itinerari e come diceva il dottor Orsini, anche per la propria scelta di mobilità multimodale per andare da A a B, fare un percorso che non sia solo calcolato in base ai costi, ma anche calcolato in base alle emissioni. Vorrei soltanto chiudere su un punto. A dicembre la Commissione europea si appresta ad adottare tre iniziative molto importanti che hanno impatto sulle tre questioni che lei ha toccato nella sua domanda. La revisione della rete TNT, che è fondamentale, la direttiva sui sistemi di trasporti intelligenti e quindi che si propone di utilizzare al massimo le potenzialità della digitalizzazione e poi un nuovo quadro europeo per la mobilità urbana che propone appunto una visione integrata per il trasporto urbano nella direzione a cui faceva riferimento il dottor Orsini e spero anche per la parte che riguarda noleggio con conducente e taxi, che è una parte integrante della mobilità urbana. Mi fermo qui e mi metto all'ascolto delle conclusioni e grazie per l'opportunità. Grazie a lei, Settembre. A questo punto passo la parola al Ministro. Se riesce nelle sue conclusioni magari aggiungere una riflessione, visto che ha toccato il tema dei tir e dell'autotrasporto, quindi andando sul filone delle merci e del trasporto merci, che è tema molto caldo oggi, la domanda era questa. Abbiamo uno scenario per quanto riguarda il trasporto delle merci su ferrovia, un obiettivo di 30%, sfidante, ma dobbiamo sapere che già alcuni porti italiani, sto pensando a Trieste, il terminal container fa 50% di trasporto di container via ferrovia, la spessia, quindi la media è complicata da raggiungere, ma abbiamo dei punti di grande eccellenza anche sul trasporto in tema del liquido. Una riflessione sul tema dell'autotrasporto, nel senso che quello comunque, nella migliore dell'ipotesi, rimarrà anche sul lungo raggio un pezzo importante e mi domandavo se ritiene che il fatto che Aspi sia rientrata nell'alveo del governo in quanto controllata a Cassa Depositi e Prestiti, possa rappresentare un'opportunità aggiuntiva per avviare progetti che, diciamo, anche sull'autotrasporto in Nord Europa si stanno portando avanti, tipo elettrificazione d'autostrade, platooning, con impatti positivi ovviamente anche in termini di climate change. Detto questo, la ringrazio per le sue conclusioni e poi credo avremo da sintetizzare il sondaggio. Prego, Ministro. Grazie. Tutti interventi estremamente interessanti, non voglio fare le conclusioni, ma propongono un slogan sulla base di quello che è stato detto, e cioè la vera sfida è rompere gli schemi. Rompere gli schemi con cui abbiamo ragionato per molto tempo. E non è un caso che io abbia voluto cambiare il nome del Ministero. In infrastrutture e mobilità, singolare, sostenibili, plurale, per avere ambedue sostenibili. Il passaggio da trasporti a mobilità è un salto culturale enorme, come ha detto Orsini. La strategia europea per la puntini-puntini sostenibile non è per i trasporti sostenibili, è per la mobilità sostenibile. È un concetto molto più ampio, anche andando a piedi si fa mobilità, mentre invece non si fa trasporto. Rompere gli schemi vuol dire accettare che possiamo e dobbiamo in realtà cambiare e questa opportunità dei due tempi, 2021-2026, 2027-2030, è a nostra disposizione. Ma cosa vuol dire rompere gli schemi? Orsini giustamente citava il Mobility as a Service. Noi abbiamo pubblicato il bando per identificare le città che diventeranno la sperimentazione per i fondi mass del PNRR. Perché già oggi è possibile. E questa sperimentazione richiede l'integrazione delle piattaforme, i dati, dei servizi, delle cose che abbiamo sentito prima. Ed è una rivoluzione. Quindi giusto dire che TPL non è il solito autobus, non è il solito treno per pendolare, ma è un sistema che attraverso i dati dialoga e offre una molteplicità di servizi. Cambiare paradigma vuol dire anche capire che passare, supponiamo, una grande città a full electric non è semplicemente comprare autobus elettrici. Perché a monte, cioè nei depositi, lungo le strade, se usa una certa tecnologia che consente la ricarica alle fermate, è un sistema che cambia. Tant'è vero che ci sono una serie di offerte che pensano a offrire ai comuni il servizio chiave in mano e occuparsi di tutta la filiera a monte dell'autobus. E questa non è una cosa che si fa semplicemente perché decido di comprare autobus elettrici invece che autobus a gasolio. Questa è una rivoluzione organizzativa di mercato e anche finanziaria. Rompere gli schemi vuol dire che col PNRR, io non ho sentito purtroppo l'onorevole Elie citare questo punto che secondo me è estremamente importante, noi colleghiamo con le ferrovie 11 aeroporti, 11 porti, 9 centri di smistamento intermodale e questo non è qualcosa che romperà gli schemi come giustamente ha ricordato il dottor Bardi anche ora in termini di autotrasporto e così via. Abbiamo avviato la sperimentazione del trasporto per ferrovia dei TIR, non dei container, proprio qualche settimana fa. Questa è una rivoluzione. Non sto dicendo che va tutto bene, attenzione, sto dicendo che il cambiamento che dobbiamo fare in primo luogo è nella nostra testa. E ha ragione il dottor Settembri quando dice questa cosa non si fa solo perché compriamo un po' più di pezzi di ferro, di plastica, ma perché è un cambio di mentalità. Per questo noi abbiamo chiesto alla Commissione Europea nei programmi di accompagnamento, di assistenza tecnica al nostro Ministero, di aiutarci proprio su questo fronte anche a come utilizzare i sistemi basati sull'economia comportamentale, cioè nudging, la spinta gentile che cambia gli incentivi, disincentivi, le soluzioni default, eccetera. Come vedete, questo è un cambiamento che ci chiede di rompere gli schemi. E non posso non rivolgermi alla Commissione Europea sul fatto che tra gli schemi da rompere c'è l'accettazione di un secondo corridoio nelle reti TNT, che è il corridoio adriatico per il nostro Paese. Sappiamo benissimo che normalmente c'è solo un corridoio per Paese, ma l'Italia è fatta con gli appennini lungo tutto il Paese e sappiamo che se noi non abbiamo questo tipo di riconoscimento non potremmo potenziare come vorremmo la linea adriatica, non solo quella passeggeri, ma soprattutto quella merci, che è la dorsale attraverso cui passano le merci e che anche quando andiamo a disegnare la Salerno-Reggio Calabria di alta velocità prevede lo sblocco da Gioia Tauro, che è il principale porto in termini di transshipping italiano, verso la Ionica e poi a salire su Adriatico. Allora rompere gli schemi vuol dire anche accettare che questa rivoluzione passi per il superamento, se giustificato da un punto di vista economico, trasportistico, sociale, di riduzione delle uguaglianze, di abbattimento del CO2, anche degli schemi con cui normalmente si disegnano le reti TNT, se però questa rottura dello schema è funzionale al raggiungimento di una rete europea degna di questo nome, magari verso est, verso il corridoio balcanico e così via. Insomma, dice un famoso, questa è la mia conclusione, è un famoso detto, in realtà è una maledizione cinese, ti auguro di vivere in tempi interessanti. Ecco, io credo che siamo esattamente in questa situazione, grazie alla scelta dell'Unione Europea, attraverso il Next Generation EU, di cambiare la prospettiva seguita dagli ultimi vent'anni e siamo in tempi interessanti, ma abbiamo bisogno appunto di cambiare gli schemi, cambiare il modo di pensare e ritenere, in particolare in Italia, che ci sono tanti problemi e non li risolveremo tutti né in un anno né in cinque anni, ma lo scetticismo con cui spesso queste discussioni vengono colte, vengono accolte, è giusto, una certa dose di scetticismo è giusta, ma abbiamo bisogno anche di capire che è un'opportunità che non dobbiamo sprecare, quindi non dobbiamo sprecare i fondi assolutamente. Questo mi porta anche verso il tema dell'autotrasporto, perché? Perché anche quel settore ha bisogno di fare la transizione ecologica come gli altri, in una visione appunto di logistica integrata e anche lì c'è il tema del digitale, c'è i temi di cui abbiamo parlato. Però credo che veramente l'opportunità che abbiamo avanti, davanti, grazie anche alle eccellenze italiane, come ha ricordato poco a fa' il dottor Bardi, ci potrebbe far fare quel salto che da molto tempo è auspicato. Grazie. Grazie a lei, Ministro, per questa sua conclusione che rimarca l'opportunità che abbiamo di fronte e anche il carattere generativo che ha l'opportunità, nel senso di nuove prospettive che sono nelle nostre mani e quindi è bene, diciamo, coglierne questa componente piuttosto che altre. A questo punto, davvero scusandomi per questo ritardo di sei minuti, do l'esito del sondaggio. La domanda per, eccola qua, per una mobilità sostenibile, il nodo è solo nelle risorse economiche, sono anche interventi normativi, sono sufficienti le risorse, le giuste risorse, 9%, sono necessari anche interventi normativi, 86%, non so, 5%. Quindi, grazie ancora a tutti, permettetemi, il Ministro l'ho già ringraziato, di ricordare e ringraziare gli altri intervenuti, Enza Bruno Bossio, Eleonora Evi, Raimondo Orsini, Pierpaolo Settembre. Grazie ancora a tutti. Grazie. 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 Grazie.